bella a tutti ragazzi e benvenuti su burrito tube e oggi siamo su grandi chapter 2 perché si è aggiornato e hanno aggiunto la modalità nightmare e oggi andremo in easy a farla quindi andiamo subito via andiamo scusate se quando ho fatto il video con l'elicottero ho messo in pratics ma era solo l'ho messo perché volevo farvi vedere tutte le novità di dell'aggiornamento la prossima volta per fare un video dove lo farò in modalità meno facile con tutti e due i nonni va tutto in sanguinato dio credito sei combinato qui si vede che qua successo qualcosa di brutto e dai che è in pace subito sei qui devo dire la ventana data nightmare lega un po e mi lega un po il gioco ma grazie un po tutto il bruscio che non so grazie un po tutto il bruscio pure sembra gioco andremo se non so grazie un po tu non so grazie un po tutti i piatti non so grazie un po tutto qui già però la tua stessa siamo sbagliata a fare un po di piatti e non ci sono più in sangue di manure, lui è stato Granny che suona il pianoforte ma... e dai Granny ma perché? come fa tu a vedermi? i nostri ragni fanno rumore grazie Grandpa si, c'è il ragno che fa rumore allora, è detto io vado qui no, Ragnetto, non farmi rumore perché già ma Grandpa i ragni li sente almeno? non so, forse no ditemi se i commenti che se Grandpa sente i ragni perché non lo fa bella tanto sbagliato mannaggia mettiamo qui bella la Stangun qui e piglala oh 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 Grandpa Grandpa bravo Grandpa andati così e vado a pigliarmi la sua chiave e io apro qua vediamo qua se c'è qualcosa botchi niente niente di di bello per me oh ma non è possibile ok i nonni sono atti fuori per un minuto quindi andiamo qua oh e abbiamo il fucilozzo abbiamo il fucilozzo qua c'è qualcosa niente pareva allora figlio di Slendrina vedi di darmi qualcosa di utile perché ti sto per sfamare lo ammazzo direttamente ma no riesco a dargli da mangiare va c'è che ammazzarlo di me ci sono delle granate le granate là io non l'ho visto bene no non ci sono le granate intanto spostiamo qua il diario qua c'è qualcosa no non mi serve non faremo un altro video lo scappamento dell'elicottero una bella crowbar per me no qui c'è qualcosa aspetta che guardo bello lì la maniglia della porta la prendiamo subito aspetta questo qui dai mannaggia e andiamo a mettere questa bella maniglia nella nostra amata porta no 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 mannaggia devo metterlo qua ok andiamo a prendere il fucile così se i nonni si fanno vedere il fucile c'è la nonna lì e dai nonna tutti i posti del mondo proprio qua dovevi venire non potevi andartene da un'altra parte suonare il tuo bel pianoporte dovevi venire per forza da me si vabbè facciamo venire anche facciamo venire anche gerry scotti in una festa va già che ci siamo no no se ti fai vedere una volta no no stai lì no no aspettate vi faccio un taglio perfetto raga li ho aggirati e abbiamo ottenuto per premio lo shotgun ma perché non metto qua con un ancio me lo devo riportare quando gioco a creme mi devo sempre perché quando devo piccare la manina ma intanto faccio una cosa cavolo ho fatto una cavolata no nonna te tranquillizzati se la nonno sono in nonno nonno dove sei nonno nonno cosa positiva che non posso ma nonno dove è ogni volta che gioco per i miei due lo guardo sempre nonno no stai a saperlo non gli sparavo stai ma sto trovando tutte le parti dell'elicottero ma non le porti dalla porta ma come è possibile e nonno calmati nonno ricarichiamo lo shotgun allora andiamo nella stanza del nonno io dovrò trovare qualcosa di utile in quella stanza lì no possibile non posso trovare un cavolo di niente che cavolo è sta scia rossa niente grazie gioco allora nonno io passo di qua perché meno male che c'è sta porta è la porta più utile del gioco dopo la porta principale ovviamente andiamo su oh mi mancano le cutting pliers e la crowbar oh ma dov'è sta crowbar aspettate raga dai granny ma non è possibile che stai sempre nei posti dove voglio andare io mannaccia nonna stai nonno non mi mira adesso che devo pigliarmi con va bene ciao non non ho però messo musica va bene e ora posso andare a controllare in santa pace oh nonno leva te bella la crowbar no la crowbar era il mio oggetto dell'oggetto che mi trovo le cutting pliers qua veramente dai ok un secondo raga e adesso raga perfetto ci mancano solo le cutting pliers questo ragno ha rotto però eh ecco raga possiamo scappare aspetta andiamo subito 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 a tagliare veloce 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 perfetto raga ora ce ne possiamo andare via verso la libertà in modalità nightmare no come no mi manca la padlock che fail spero che questa safe key mi porti alla vittoria trovate ce n'è ora ce ne possiamo davvero andare via verso la libertà boom raga scappiamo in modalità nightmare ciao nonni mi raccomando statemi bene la prossima volta scappano dal vostro elicottero insieme se è inutile che mi guardate dove sono tanto scappato in Europa e non ci torno beh raga se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un like e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao ciao